Innovazione, sinergia tra imprese e cooperazione con l'università. È la ricetta anticrisi che emerge dalla prima edizione di Technology Piz. Questa manifestazione, con tutte le sue potenzialità in termini di aggregazione e lavoro di rete, può diventare una piattaforma stabile, in grado di lanciare un grande progetto di cooperazione sulla tecnologia nell'area euro-mediterranea. Devo dire che abbiamo avuto un'affluenza al di là di ogni aspettativa e un grosso interesse per tutti gli eventi in calendario. In particolare il pubblico ha gradito enormemente gli interventi di SAP, di Emerson Network Power e di Google, che ci hanno in qualche modo illustrato le ultime tendenze del settore ICT. SAP, che è presente in maniera veramente interessante al Technology Piz con una serie di suoi partner alleati, ha preferito un taglio che a noi è piaciuto molto ed è presentare such a stories, cioè ha presentato casi di aziende campane che hanno avuto il loro successo anche grazie alle soluzioni SAP. Guardiamo più da vicino l'esempio di SAP. Multinazionale attenta da sempre all'innovazione anche grazie al progetto SAP Mezzogiorno Mondo, finalizzato a creare innovazione nel mercato attraverso la creazione e il consolidamento delle sinergie tra imprenditori, pubblica amministrazione e università. Come SAP abbiamo deciso di far confluire il progetto Mezzogiorno Mondo al Technology Piz perché riteniamo importante supportare queste attività legate all'innovazione e legate a cercare di dare elementi competitivi alle aziende del Sud. SAP Mezzogiorno Mondo è un'iniziativa nata nel 2007 che ha l'obiettivo di mettere a confronto le principali aziende del Sud su tematiche di innovazione e creatività. In particolare quest'anno abbiamo deciso di sviluppare il tema della creatività e questo è stato fatto nel corso del 2009 con una serie di eventi sviluppati sul territorio e soprattutto grazie al canale di social network che abbiamo, che è Wikisap, che è un canale specifico per il Mezzogiorno e che vede più di 500 imprenditori che quotidianamente operano sul nostro social network. In questa ottica abbiamo pensato che Technology Piz fosse il compimento di questo progetto nell'arco del 2009 e infatti domani avremo l'evento conclusivo di SAP Mezzogiorno Mondo con una tavola rotonda che vedrà una serie di imprenditori del Sud e alcuni imprenditori del Nord, infatti il tema è Sud Chiamanord. ICT significa investimenti ingenti e attenzione all'iTech è quanto afferma Mauro Minenne, direttore sistema informatico dell'API. Intanto l'azienda sta investendo appunto in modo significativo sul rebranding e quindi questo avrà un impatto importante nell'indotto in quelli che sono i nostri retisti, quindi quelle che sono le strutture commerciali distribuite sul territorio. Contemporaneamente gli investimenti principali oltre a questi qua sul rebranding sono investimenti sull'innovazione che toccano la raffinazione, quindi toccano la nostra raffineria di Falconara, toccano i sistemi informativi nella loro capacità di potenziare l'infrastruttura per offrire informazioni di migliore qualità. I piani sono ancora nel segno degli investimenti in IT nell'ottica del miglioramento dei processi. Noi abbiamo delle aree molto importanti su cui desideriamo ancora sviluppare nuovi progetti, in particolare l'area della business intelligence che riteniamo fondamentale per fornire al vertice aziendale dei dati sull'andamento dei processi aziendali e delle aree aziendali. Ma soprattutto un investimento che riteniamo innovativo e che ci può dare un grosso contributo nella nostra crescita è l'investimento nel business process management. Questo è un investimento innovativo, è una tematica che negli ultimi mesi si sta proponendo con forza, è un investimento su cui Firema crede per ancora intervenire nell'ottica del miglioramento dei processi. Per passare dall'innovazione allo sviluppo, cioè ad una diffusione capillare delle nuove tecnologie al servizio dell'economia, c'è bisogno però di maggiore sinergia tra pubblica amministrazione e imprese. È un'importante iniziativa perché consente in qualche modo di dimostrare non solo in eventi la volontà di collaborazione, ma anche in una fiera la disponibilità di prodotti. Quindi ci si incontra non solo in termini virtuali per parlare di possibili occasioni, di collaborazioni o di possibili temi strategici di investimento, ma in qualche modo c'è una dimostrazione dei prodotti che fa sì che il mondo della media e piccola impresa possa in qualche modo dimostrare alla grande impresa e in qualche modo possa essere anche fondamentale per i nostri centri di cerchio e per le nostre università valutare lo stato di innovazione presente nelle PMI. Quindi un triplice incontro, l'università con la media e piccola impresa, la grande impresa e l'università e la grande impresa e la media e piccola impresa. E questo è anche un antidoto alla crisi, A portare l'esempio virtuoso è Alberto Giraudi di Firema, che riassume la mission dell'azienda con lo slogan Più ICT e meno crisi. Per noi non è semplicemente uno slogan, ma è veramente una chiave di successo per una società che oggi rappresenta un'eccellenza nel sviluppo del materiale rotabile a livello di progettazione, di costruzione e di manutenzione nell'offrire sistemi di servizio e sistemi tecnologici. Il tutto come sottolineato dalla Emerson nel rispetto dell'ambiente e della sostenibilità dello sviluppo. Non tutti sanno probabilmente che in ambito di un'infrastruttura tecnologica, quello che è un data center, il 50% e talvolta più del 50% viene speso in termini energetici per alimentare l'infrastruttura, cioè tutto quello che sta a servizio della parte server che in realtà è la parte che interessa l'utente. Ora, come poter migliorare? Come poter intervenire per ridurre questi costi energetici? Le modalità sono varie. Noi di Emerson Network Power abbiamo sviluppato nel corso dei nostri 40 anni di esperienza nel condizionamento di precisione e nei gruppi di continuità varie soluzioni che permettono una riduzione reale del oltre il 50, 55, 60% utilizzando ovviamente tecnologie che non sono quelle convenzionali che si trovano tutti i giorni in un condizionatore ma utilizzando un modo migliore per la distribuzione dell'aria, utilizzando tecnologie nuove per rimuovere il calore dove viene generato. La Lotto Sport Italia poi sta puntando sull'open source, grande esempio di creatività e libertà attraverso una collaborazione fluida tra i programmatori. L'open source rappresenta una novità, una potenzialità e in un momento di crisi come questo generale una risorsa sicuramente da non sprecare ma da prendere in seria considerazione. L'open source a mio avviso sia anche molto consolidato, c'è presenza sul territorio anche di competenze che possono favorire l'inserimento in azienda rispetto magari a qualche anno fa in cui era un po' più avventuroso prendere in carico una qualche soluzione. Quindi a mio avviso è una soluzione assolutamente degna di nota e che va presa in considerazione e noi lo faremo. Come ribadisce anche Roberto Galloppini del Comitato Scientifico di Technology Beats, l'open source permette di coniugare la libertà da brevetti e proprietà intellettuale con un processo di continua innovazione collaborativa, usando la creatività individuale per convertire in denaro il valore della reputazione. L'open source è finalmente diventato un'opportunità concreta nel senso che esistono molte soluzioni in diversi ambiti, pensiamo ai sistemi di conto e management, alla sicurezza, quindi soprattutto su quelli infrastrutturali, un po' meno su quelli applicativi, ma comincia ad essere un'opportunità concreta. L'altro aspetto assolutamente interessante dell'open ovviamente riguarda anche chi produce soluzioni software perché è un'opportunità di mercato per gli operatori poiché è possibile partire da soluzioni già pre-elaborate e comunque semi-lavorati su cui andare a costruire l'oltre valore per i clienti. Ma ICT significa anche nuove frontiere per la medicina. Si tratta dei servizi offerti da Telecom alle strutture sanitarie, una rosa di possibilità tra cui ora spiccano il telemonitoraggio e la teleassistenza, studiate entrambe per assistere ai malati cronici. Tecnologicamente consiste in una soluzione che raggruppa una serie di dispositivi medicali che nascono con il protocollo Bluetooth a bordo e che sono in grado quindi di dialogare con un applicativo sul cellulare che trasmette le misure ad un centro servizi, altro non è che un portale internet a cui il medico curante accede per consultare da remoto e in tempo reale la situazione clinica dei pazienti. Nell'ospedale Morinette di Torino c'è un in capo al reparto di gerotria, c'è un servizio che si chiama ospedalizzazione a domicilio in cui i pazienti anziché essere seguiti nel reparto dell'ospedale vengono seguiti da un team assistenziale a casa propria. Alcuni di questi pazienti hanno oggi in dotazione la soluzione di Telecom e quindi hanno dei dispositivi e in autonomia ogni giorno effettuano le misurazioni trasmettendone con il cellulare al reparto o al primo livello dove un medico intemporale le riceve di consulta.